Di fronte a circa 1.400 spettatori di cui una buona rappresentanza anche di Via Reggini, la 100 giovani calciatori ha perso 6 a 4 gara 2 della semifinale Scudetto Playoff al Palacastellotti contro i Lodi. Adesso i conti sono pareggiati dopo l'1 a 0 della prima gara del 6 a 5 a favore dei Via Reggini dopo i tiri di rigore ad oltranza. Apre le segnature per i padroni di casa Chirida al 14.54, c'è un blu reciproco per compagno e Gavioli per reciproca e scorrettezza all'11.42, un blu anche per festa per fallo su compagno, va a Malagoli e per il tiro diretto segna il gol del 2 a 0. Blu anche a De Rinaldis, del Lodi per un fallo su Montigel, Gavioli realizza il tiro diretto ed è 2 a 1, si chiude il primo tempo con la rete di Verona che fissa il punteggio sul 3 a 1. Nella ripresa al 12.22 ancora il giocatore Via Reggini Ventura batte Grimala sul rigore, la prima battuta viene rispinta e poi il pallonetto trova la pallina alle spalle del portiere locale. 4 a 2 di Verona che poi c'è il gol di Gavioli del 4 a 3 contestato dai locali, Montigel realizza il pareggio del 4 a 4 su assist di Gepi Selva, al 6 a 18 Malagoli realizza la rete del 5 a 4 e qua il Via Reggio chiaramente viene penalizzato da questo punteggio, al 3 a 13 dalla fine Malagoli si vede neutralizzare da Barozzi un tiro diretto. Poi al 7 secondi dalla conclusione Malagoli con Barozzi che era stato tolto dalla porta con 5 giocatori di movimento a porta vuota trova la punizione severa per il 100 giovani calciatori per il 6 a 4 a favore del Lodi. Adesso sabato sempre a Paracastellotti gara 3 dove il 100 giovani calciatori ovviamente cercherà di rimontare dopo questo 1 a 1 che hanno pareggiato i conti da gara 1 a gara 2.